Buongiorno e ben ritrovati con le previsioni del tempo, edizione straordinaria in quanto nel pomeriggio sicuramente arriverà la neve su Tappellino Lucano a dai 700 metri in giù. Adesso andiamo a vedere in dettaglio che cosa potrebbe succedere, infatti nel corso di mercoledì 14, mentre una bassa pressione sia l'assonerata all'Italia, come possiamo notare dal satellite, dirigendosi verso il combatto pantalico, nel frattempo, oggi pomeriggio un ciclone prenderà forma sul marziseno e raggiungerà velocemente le azioni meridionali, quindi tempo in graduale e diffuso peggioramento nel corso del pomeriggio, del giorno proprio di San Valentino, su Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata e poi infine Puglia, quindi piogge e neve in a Tappellino intorno ai 700 metri, fin verso l'anno 80, come possiamo notare dalla la mappa allegata. Nel seguito, da giovedì a sabato, smetto miglioramento delle condizioni medie o per l'impansione dell'altra missione. Quindi, da domani fino a sabato, per sedi volconari a più vite. Invenito, forse poi, nella prossima settimana, si potrebbe aprire la porta del freddo russo, ma su questo ancora, troppo ci dobbiamo ritornare. Io vi ringrazio per l'ascolto, buona neve e buon San Valentino a tutti. Ciao, alla prossima.